Giallo sul ritrovamento di un uomo deceduto ad Eboli nella sua abitazione. Eri sera i medici del 118 hanno ritrovato un sessantenne prevo di vita in camera da letto, in una villa a pochi metri da Serracapilli. L'uomo obeso era incinocchiato davanti al materasso con la testa reclinata sul letto. A sorprendere i medici del 118 giunti sul posto dopo una telefonata dei familiari con la quale è stato chiesto il loro intervento per una crisi respiratoria del congiunto è stata una pozzanghera di sangue di vaste dimensioni. Sul cadavere ci sarebbero anche segni ed echimosi, in particolare sulla schiena. Il personale del 118 ha allertato i carabinieri della compagnia di Eboli diretti dal capitano Greta Gentili e il medico legale dovrà effettuare l'esame esterno per appurare le cause del decesso. L'uomo potrebbe essere deceduto molto prima di quando è stato allertato il personale sanitario e potrebbe aver perso la vita nei giorni scorsi, tenuto conto che il cadavere sarebbe già in decomposizione. I carabinieri dovranno ricostruire le ultime ore di vita del sessantenne per comprendere cosa è accaduto e le reali cause del decesso. Molto probabilmente il magistrato inquirente della Procura della Repubblica di Salerno per disporre alla topesia per appurare le cause del decesso e non escluso che l'uomo potrebbe essere morto per un malore.